8 novembre 2020 ore 12 10 oggi è domenica una magnifica giornata e fra poco raccolgo i fagiolini questa è la seconda raccolta veramente una bellissima giornata serena splendida io sto sempre qua per passare e soprattutto anche per oggi almeno c'è la raccolta per i fagiolini sempre impegnato adesso così giungo il video vi faccio vedere come faccio va bene lo giro piano piano questo questo si gira mamma sembra incestare uno due tre quattro fagiolini cinque sei non sono grandi però sono buoni questo è più grande vedi allora da piccoli grandi tutto fa a prova abbiamo questo più grande e questo più piccolo vedi questo è buono come pure questo questo è quello che ho raccolto adesso faccio così prendo sempre spostato allora ho caldo i fagiolini li metto di qua il sistema di parco le gambe così per avere una migliore visuale 1 2 3 vediamo 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 quest'altro qua ce ne stanno 2 di più 2 di meno ecco un altro qua sono più grandi vedi tutti sono buoni poi adesso qui non c'è insetticida non c'è pesticida tutti i prodotti naturali col freddo ci troviamo nell'archiviano del fagiolini ci troviamo nell'archiviano del fagiolino vediamo questo ah 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 bello questi eh 1 2 3 4 5 vediamo qua si questo apposta vediamo quest'altro 1 2 3 4 5 6 oh questo apposta lo accogliamo e accogliamo e accogliamo quest'altro adesso faccio così eh 1 2 3 4 5 6 oh questo ecco qua e procediamo si? a medicinare allora è bello è bello è bello è bello è bello è bello è mi piace mi piace tanto via questo proseguiamo con quest'altro questo sì 2 ce ne stanno di più 2 di meno qua ce ne stanno di meno e bene qua è lo stesso va bene tutto fa bordo si recupera tutto Qua siamo fortunati, ci sono quelli più grandi, eccovi, le grandi sono tutti buoni, ah ah, qua ce ne stanno parecchie, fortunato, non piace raccogliere i pagiolini, lo so, oggi è domenica, senti, poi si è alietato, ha raccolto i pagiolini e ha alietato pure la galla. Vabbè, prendiamo lo stagio, adesso vi faccio vedere una cosa da vicino, allora, vedete i pagiolini come sono belli, bellissimi, va bene, vabbè, 4 minuti e 47, proseguo, vabbè, proseguo un'altra bocca. Allora, qual è? Adesso vi faccio vedere, questi sono i filari, vedi, sembra che non si vede niente, ma in effetti qua sotto ci sono i pagiolini, vedete? Ecco i pagiolini, ecco quelli che ho raccolti, questi dopo ci torna lavata, sono buoni questi, bolletti, freddi come si vogliono fare, anche al sugo con la pasta.